14esima giornata per la Champions Cup Open Spareggia tutti gli effetti ai piani bassi della classifica tra Aston Birra e Prosecco In cerca di punti per evitare l'eliminazione prematura dal torneo Parte bene l'Aston Birra con Gessa che riceve palla Scappa via Luzai e una volta entrati in aria non perdona battendo gli inuti Ed è 1-0 Aston Birra quando siamo al nono minuto Aston ancora pericoloso in avanti ma qua l'inuti in qualche modo riesce a salvare la propria porta Poi Usai perfeziona il disimpegno Il Prosecco prova ad affacciarsi in zona offensiva con questo giro palla nei pressi dell'area avversaria Con Secchi che serve Usai che carica il destro La palla viene deviata da un difensore sul proprio palo si salva l'Aston Birra Sul versante opposto occasionissima per Carduco e va la conclusione L'inuti con i piedi mette la palla in angolo Su questa palla messa al centro da Usai svetta prima di tutti Murgia Che insacca le spalle del portiere È al diciassettesimo e 1-1 tra Aston e Prosecco Il Prosecco continua a spingere Sventagliata di Usai per Murgia che stoppa con il petto Punta il diretto avversario che lo mette giù E per il direttore di gara non ci sono dubbi È calcio di rigore Della battuta si incarica Todek Il daddischetto non perdona Spiazzando il portiere avversario Ed è sorpasso per il Prosecco Quando siamo al venticinquesimo E su questa palla lunga bloccata da Linotti All'interno della propria aria Arriva il duplice fischio dei direttori di gara Che manda le squadre a riposo Al nono minuto la sblocca Gesa Poi Murgia e Todek allo scadere Rispondono per il Prosecco Parte forte il Prosecco Sventagliata che termina sul piedi di Valdez Che controlla entra in aria E con il destro trova un gran gol Ed è 3-1 per il Prosecco Quando siamo al trentunesimo minuto della ripresa Il Prosecco continua a spingere Todek scappa via Seve Murgia Che di prima intenzione colpisce Il palo ferma la conclusione L'Aston accorcia le distanze Con Cardu che direttamente da calcio piazzato Trova il gol Palle e buca d'angolo Nulla da fare per Linotti E al trentaseiesimo L'Aston ritorna sotto di un gol Passano soli tre minuti Dal gol appena realizzato E L'Aston trova il pareggio Ancora con Cardu Che scarica una botta imprendibile per Linotti Ed è 3-3 al trentanovesimo minuto Della ripresa Il Prosecco nonostante la rimonta Appena subita Si riaffaccia subito Delle partite di lui Con Todek Che con il mancino Toglie le ragnatele dall'incrocio destro Riportando avanti il Prosecco Quando siamo al quarantunesimo minuto Ancora pericoloso Cardu Il numero 18 Carica il destro Linotti si distende Poi Usai Perfezione di Zipenio Spazzando in angolo E il preludio al gol Che arriva pochi più tardi Palla di Cardu per Murru Che stoppa Batte Linotti in uscita Ed è 4-4 Quando siamo al quarantatresimo minuto Continua il botta e risposta Tra le due squadre Su questo calcio ad angolo Battuto da Todek Arriva la girata vincente Di testa di Usai Palla che bacia il palo E il Prosecco È di nuovo avanti L'Aston si getta in avanti Alla ricerca del pari Qua con Cardu Che stoppa in aria Va alla conclusione La difesa si chiude La palla carambola fuori Arriva Murru Che prova la conclusione Palla sopra la traversa Ma non c'è più tempo Il Prosecco Batta il Laston Birra Nello scolto diretto E momentaneamente Sale al quarto ultimo posto In classifica Superando il Moto2 Sport Grazie